ciao a tutti ragazzi in questo video vediamo come coltivare la pianta del caffè arabica in vaso la pianta che vedete l'ho acquistata al lidl ed è in promozione a 2 euro 99 fino a domenica la pianta del caffè arabica è una pianta sempre verde che se coltivata in vaso supererà di poco il metro di altezza si tratta di una pianta d'appartamento ma che possiamo tenere all'aperto durante la stagione calda la pianta che acquistiamo va assolutamente travasata in un vaso più grande va benissimo un vaso rotondo di diametro del 20 per poi aumentarlo man mano che la pianta crescerà il terriccio deve essere ricco di torba concimato e ben drenante il travaso è semplicissimo basterà riempire il nuovo vaso col terriccio a metà togliere la pianta dal vaso di acquisto prestando attenzione a non rompere il panetto di terra che in questo caso dovrà restare compatto appoggiarla al centro del vaso riempire gli spazi vuoti compattare il terriccio e dopodiché annaffiare le annaffiature successive dovranno essere giornaliere durante l'estate e ogni 2 barra 3 giorni durante l'inverno in estate è anche consigliato a nebulizzare la pianta la sera per mantenerla ad una temperatura fresca la fioritura avviene tra aprile e maggio a seconda della posizione geografica in cui ci troviamo dentro ai fiori ci sono i semi verdi che poi dopo la lavorazione si trasformeranno nei classici chicchi di caffè per questo video è tutto se il video ti è piaciuto lascia un like se non sei ancora iscritto iscriviti attivando la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao